Bentornati a tutti nel mio canale, sono Viari e oggi sono qua per portarvi un piccolo gameplay per quanto riguarda il Pellington Pellington che è uno dei check-in di Cold War e adesso è stato leggermente buffato, l'è stata migliorata la velocità di entrata in mira ed è veramente velocissimo Un'ottima alternativa al car, ovviamente è come il car, cioè che dovete sparare in testa per far danno Perché sparando sul corpo di un nemico anche al petto andete semplicemente a ferirlo, non di più Usata insieme all'LC-10 con un'arma veramente tanto forte come mitraglietta, è fantastica Trovate nella descrizione del canale oltre al mio link di Twitch dove in questo gameplay ero a giocare con i miei sub, quindi con i miei follower Trovate la classe nella descrizione e anche nei commenti, quindi in uno dei due troverete entrambe le build delle armi Con questo occorretevi il video, buona visione Ma il bullfrog nella categoria delle mitraglietti era proprio forte, cioè nel senso era più forte Manca l'LC Già meta Capisco C'è uno sopra Dietro di te Gaccio back Ronnie Gaccio back Guarda io Zio vieni qua Le compriamo figa Occhio bombardamento Occhio bombardamento L'ho tirato su di me Questa è dietro Ma sono scemi Veste a pushare Tra me la gente Puscia così Tira pure Questa è guava Poi di test Spia Digos Qua è pieno Infatti sono gustosi Ma l'ha dato Spia Digos Spia Digos è morto Il nostro amico di prima Arrivano in the face Una terra Sulla terra Sulla terra Stato uno Una terra Sparano più avanti Uscio Fatto un altro Manca l'ultimo Credo Occhio eh Occhio andare No rega la safe La safe la safe Venite dietro Venite dietro Venite dietro Da caserma Coprimi un attimo Vai vai mi piastro E poi si passa Due raccati in finestra Tanti a me uno Aiuto Tiralo Tiralo In casa Giriamo un po' a destra Giriamo un po' a destra Rega Prendiamo copertura Messato tutti i colpi Rega Tutti i colpi Messati Sono scappati Manca l'ultimo Questo qui in casa Preso Venite di qua Bela vitto Una terra di questi Versato Nuovo a terra Occhio eh La safe è lenta Però occhio raga Via 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 Correre C'è gente eh Qua intorno Qua vicino allo shop Mi sa Come vuoi te Vai qua a sinistra Vai qua a sinistra Prendiamo il primo Cos'è in volo? Un altro guava vai Vai arrivano questi Arrivano questi Una terra di questi C'è uno sotto di me Uno sotto di me Con fantasma Uno sotto di me Con fantasma Uno sotto di me Con fantasma Fatto schifo Un fermalo Gente a destra Qua 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 esce Alla destra è andato Preso Andiamo via di qui Cosa è quando Quando pingo io Succede sempre queste cose Ok 300 di ping fisso Rega Non so che sta succedendo È il server È il server È morto tipo No È ancora cross Eccolo Ti muovo di qua Ok No Sono cacciato di sotto Ok è preso Ho paura di cheat No ma Fran Non ha la roba da cheat Questa Occhio Perché era passata Una macchina da poco Non so che fino ha fatta Eh La sombra Guarda shop Ce n'è uno davanti Vero? Questo è due 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 Porca troia Ho messo il primo Guarda Guarda Raga Questi qui shop Non li vedo Vado a te Non l'avevo visto Guardate che sono un altro team Se li vedo davanti a noi Ho fatto uno Mi ha fatto l'altro A me Mi ha fatto l'altro Bellington E lc10 Sto usando Una bomba L'hanno potenziato Il Bellington Tanta roba Pensavo fosse così forte Sono entrato Sono entrato Sono miracolato Io non so come cazzo No No C'è gente dove ci sono le macchine Occhio Ronnie Occhio Ronnie Occhio Ronnie Occhio Ronnie Occhio Ronnie Tranquilla 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 Bisogna salire Bisognerebbe salire Andiamo a destra Loro ci pingano Eh occhio C'è gente che si spara C'è gente laggiù Loro sono in quella casa Provo a andare sotto Io Mi prendo questa casa qua La prima Prima casa l'ho presa io Da dove? Da dove? Tutte le case intorno a me sono Anche in avvicinamento Eccolo Ma perché a me? Ma davvero Dai basta Monti siede Bellino però il pellicano ragazzi Molto interessante da giocare Molto bellino Molto bellino Velocissimo Grazie a tutti Grazie a tutti